i ragazzi ben trovati nel canale di marchesi rosso blu è finita 1 a 1 tra mestre e gubbio gubbio che finalmente abbandona la casella quota 0 per portarsi a un punto è vero che un punto in tre partite è poco però oggi il gubbio ha sicuramente dimostrato di aver cambiato mentalità eccetto magari per degli errori difensivi che dobbiamo migliorare comunque procediamo per gradi un primo tempo giocato veramente bene abbiamo veramente sciupato tantissimo infatti c'è stato un 1-2 tra Casilaghi e Malaccari purtroppo Malaccari stoppa male il pallone se lo allunga il portiere la prende Malaccari per scavalcare il portiere salta cade male e credo che abbia subito un infortunio veramente brutto gli auguro una pronta guarigione e al suo posto è entrato Cedric Calombo che fa appunto l'1 a 1 sono contento sono soddisfatto per non aver perso ecco diciamo così una partita in cui il gubbio sicuramente non meritava di perdere perché non meritava di perdere parliamoci chiaro però purtroppo oggi non abbiamo vinto abbiamo pareggiato però diciamo parliamoci parliamoci chiaro questa di oggi per come si era messa tu che stai 0 a 0 giochi bene cominci il secondo tempo commetti un errore difensivo ti segnano è molto probabile che era una partita che potevi anche perdere calamorosamente e invece abbiamo avuto la forza per riprenderla abbiamo infatti fatto l'1 a 1 con Calombo di testa questa è una cosa che mi fa ben sperare perché partite che abbiamo giocato come con il Vicenza che noi giocavamo bene però dopo abbiamo subito il gol dell'1 a 0 ci siamo completamente spenti come appunto con Sant'Arcangelo e siamo morti e abbiamo perso con Sant'Arcangelo c'è stata una ripresa però purtroppo non è bastato un tempo per poterla riprendere invece oggi con il Mestre la partita l'abbiamo ripresa giocando a tratti meno bene il secondo tempo a tratti un po' meglio però l'importante è che l'abbiamo ripresa non siamo usciti con una sconfitta perché oggi era molto alta la probabilità dopo aver subito un gol del genere di poter perdere perché la mentalità purtroppo la testa è il 90% del giocatore le qualità si ok incidono però se il giocatore di testa non è mentalmente pronto il giocatore non fa niente c'è da dire che siamo una squadra in fase di rodaggio all'inizio del campionato dobbiamo ancora assestarci è vero che oggi però diciamo che con il 3-5-2 si è visto un gubbio che ha giocato meglio purtroppo il gol è arrivato su un errore difensivo ok però se mentalmente cresciamo un po' e commettiamo meno errori come appunto l'espulsione al 93 di dierna cioè quella lì sono tutte cose che purtroppo quelle lì accadono quando mentalmente non sei più lucido cioè farti espellere a 30 secondi dalla fine purtroppo può succedere è una cosa mentale dobbiamo migliorare in questo però il fatto che abbiamo recuperato una partita difficilissima come quella di oggi mi fa ben sperare siamo a commetta all'inizio è la terza di campionato dobbiamo stare tranquilli siamo ancora in fase di rodaggio è vero che siamo solamente a un punto però il campionato è talmente lungo che ci sarà mamma mia il tempo più mamma mia il tempo che si potrà recuperare il più in fretta possibile quindi stiamo tranquilli facciamo lavorare il mister stiamo sereni è vero che un punto è poco però già da domenica si era visto un miglioramento che siamo migliorati il secondo tempo oggi si è visto un miglioramento che abbiamo subito ripreso la partita magari domenica potrà arrivare finalmente la prima vittoria ragazzi per il momento è tutto lasciate un commento un like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto la macchia sul blu numero 1212 portanto per il mio collega non c'è perché oggi è andato via non so dove è andato però ce lo faremo dire nel prossimo video saluto anche appunto il mio collega che vedrà il video fra poco quindi come ho detto prima mestre gubbio 1 a 1 gol di calombo ci vediamo come detto il prossimo video sempre forza gubbio e mi raccomando ragazzi stiamo vicini alla squadra perché questa è una squadra forte siamo in fase di rodaggio siamo all'inizio ma vedrete che faremo bene ciao ragazzi siamo in fase di rodaggio